L'aspetto non è invitante devo dire Che coglioni, devo tornare indietro? Porca mignotta, zocco, l'aspetta Non lo so Buongiorno YouTube, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Un video direi epico, infatti ragazzi arriviamo almeno a 150 mi piace per questo video In questo video non sono da solo ma sta venendo Piero Fusco da Lecce mi pare, da Bari, Lecce, qualche posto del genere Viene appunto qui a Roma e infatti tra poco devo andare a prenderlo alla stazione Probabilmente andiamo direttamente in palestra visto che oggi è lunedì e se ci andiamo al pomeriggio c'è una caccia assurda E non c'ho voglia di litigare oggi sinceramente Vimeremo un po' di allenamento, faremo un po' di vlog, molto probabilmente diremo una cifra destronzata e già va avverto Eccolo qui il famoso Piero Fusco Adesso gli faccio vedere casa al volo Allora, questo è il salone, così la faccio vedere pure a voi, inserite un cazzo con sta luce di merda però vabbè Questo è il salone, questa è la cucina Guarda che roba Spettacolo Fantastico Quanta tecnologia qui Fantastico Ancora congelata, Simone Workout No, Simuno Come direbbe Gargiulo Con due è congelata Questa è la camera mia piccolissima, infatti una merda E' il Piero che sta a ride Questo è il cesso A proposito, ci ho fatto i lavori qua, spettacolari Guardate la doccia, reggi un attimo Piero Spettacolo Mi sono accusato il braccio, vabbè Uno spettacolo delle docce Allora Andiamo avanti Questa è la camera di mi fratello che mortacci sua ha il doppio della mia Infatti sto rosicano cifra Camera di mi sorella, bella senza letto, vabbè Ecco qua questa camera di mi, sì, di mi madre e mi padre C'hanno pure il condizionatore Io non ce l'ho infatti la notte dal mio moro de gallo Questo è il cesso loro Carino Poi il giardino non l'avete visto, sti cazzi poi ve lo farò vedere Poi il giardino non l'avete visto, sti cazzi poi ve lo farò vedere Allora Allora Mi piace molto la confezione, vedi c'è il biscotto Questo è il cookies and cream E' la preferita di sì Grande recensitore Sì, adesso l'apro Una bella apertura Questo lo taglio perché non l'aprirò mai Quei denti si fa No Confezione, ecco ci è riuscito Ecco Allora Ci ti dà pure il voto ovviamente L'aspetto non è invitante devo dire L'aspetto non è il massimo però Adesso passo all'assaggio Voi metti al microonde che è spettacolato Perché stava al frigorifero Aspetta, metti al microonde Notiamo la differenza Allora Aspetta, c'è stata una rosetta Non so che sta Un pezzo di pane Allora Per microonde Perfetta Sì Adesso Vediamo la differenza Adesso brucia Non ti dà il voto eh Prima assapora bene Il sapore è molto meglio Direi che si merita un 7 più 7,5 No, no Assolutamente Io gli ho dato 9 E questo è il mio voto Oggi parliamo di un argomento Non si sente un cazzo Ma io parlo lo stesso Allora Dicevo Parliamo di integrazione oggi Allora Piero Cosa consigli a tutti i fan Di Simone Workout Consiglio principalmente Pizza all'uva Questbar Per forza Siete presi prima D'allenamento Dopo Dopo Come è stato il recupero D'allenamento Ottimo Poi siamo andati a Ostia Siamo presi in gelato Un po' di roba Lui si è preso in gelato Due gusti de merda Che te sei preso? Limone E il frato Due gusti de merda Io pistacchio E il cocco Come al solito Comunque Stavo dicendo Siamo andati a Ostia Poi siamo ritornati a Ciglia Dovevamo fare delle cose Stiamo rienti a Ostia Dovevamo andare a mangiare Non so dove Quanti mi piace per questo video Dai Almeno 200 like Per questo video E poi Simone Fa l'altro video Quale altro video? Ma porco due La strada è chiusa qua Hanno chiusa la strada qua Porca puttana È vero Che coglioni Dovamo tornare indietro Porca miniotta Azzocco Aspetta Torno indietro Vaffanculo Cazzo Vabbè tanto Con il 911 di Simone Non ci pensiamo niente No C'ho sta Porsche La più glamorosa Allora Porca troia Allora Amo dato cazzo Passiamo Porca troia Dovamo fare tutto Un giro D'assurdo Vabbè stavo a dire Dovamo andare a mangiare fuori Appunto La Pia che ci consigli Abbiamo tutti i piatti Più costosi del menù E chi se ne frega Sì Intanto paga Piero Quindi stiamo a posto così Quindi ragazzi 200 mi piace Ha chiesto Piero Cioè è una cosa clamorosa Sì Io all'inizio video Lo sai quanti ne avevo detti 150 No 200 Quindi ragazzi 200 mi piace per questo video Iscrivetevi al canale Mi raccomando Di chi? Eh di Simone Simone Workout Noi ci vediamo nel prossimo video Bello Allora siamo qui con Piero A parlare di integrazione Allora Ho messo lo zoom Ne sbaglio Ha messo lo zoom Piero Non è capace a fare il cameraman Trafico de merda Ciao